Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando ancora una volta delle truffe agli anziani. I responsabili avevano poi nascosto la refurtiva gioielli e denaro addirittura in un sacchetto del McDonald's. Si tratta di ventenni che sono stati denunciati dalla polizia. Il tutto è stato recuperato lungo l'autosole. Sentiamo. Nel sacchetto del fast food i poliziotti hanno trovato tra residui di cibo e cartacce monili e denaro. Per questo due ventenni sono stati denunciati dalla stradale per il reato di ricettazione. I giovani sono stati fermati lungo la 1. Alla vista degli agenti però hanno subito perso la calma, non riuscendo a fornire motivazioni credibili sulle ragioni del loro viaggio. Così i poliziotti hanno deciso di perquisire l'auto, la sorpresa quando hanno afferrato il sacchetto. Dentro, la refurtiva di una truffa ai danni di un'anziana di 91 anni avvenuta a Pietrasanta, nel Lucchese, monili d'oro, orologi preziosi e oltre 1000 euro in contanti. Attraverso le indagini e la tempestiva denuncia della vittima è venuto fuori che la donna era stata adescata con la classica telefonata nella quale si chiedeva denaro per salvare il figlio dal carcere. Contanti preziosi sono stati restituiti all'anziana vittima, mentre è stata sequestrata l'auto sulla quale viaggiavano i due truffatori. Attimi di paura proprio lungo l'autostrada del sole. Oggi nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano, in direzione sud, per un incidente avvenuto al chilometro 368. Un'auto ha sbandato il carrello con sopra un natante che stava trainando, si è staccato creando grossi problemi alla circolazione. Del resto sappiamo che questi sono giorni di grandi partenze, decisamente da bollino nero sotto il profilo del traffico. Infatti poco dopo si sono formati circa 8 chilometri di coda. Poi intorno alle 16.30 tutto è stato per fortuna risolto. E proprio la protettrice dell'autostrada del sole, Santa Maria delle Vertighe, sarà portata in processione il prossimo 14 di agosto. Poi la Santa Messa in un santuario completamente rinnovato. È stata un'opera abbastanza impegnativa sicuramente, però è stato qualcosa di necessario per ridare l'ustro a questo tempio mariano, che è il cuore della Val di Chiana, è il cuore pulsante e spirituale della Val di Chiana. Il santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino è pronto ad accogliere i fedeli per questi giorni di festa in attesa delle celebrazioni del 14 e 15 di agosto. La protettrice dell'autostrada del sole sarà portata come sempre in processione fino all'entrata di Monte San Savino e poi la Santa Messa alla presenza del Vescovo Andrea Migliavacca. Quest'anno però il santuario avrà una nuova luce e gli importanti lavori di restauro sono terminati da poco, un risultato dell'impegno di tutta la comunità. Devo dire che la gente ha raccolto il nostro invito, perché lo slogan era prendiamoci a cuore il santuario. È un santuario millenario, la fraternità che lo sta zellando dal 2007 si è presa l'impegno di portarlo avanti perché c'è un desiderio di tramandare, conservare per tramandare. E devo dire che la gente viene qua. In questo posto la gente è stata battezzata, si è sposata, ha seguito i propri defunti, quindi è molto importante. E in questo momento noi stiamo facendo di tutto e di più per poter portarlo a termine, questo restauro. È stato un restauro importante perché si sono cambiate le travi del tetto, c'è una pedana radiante con i nuovi riscaldamenti, consolidamenti, ci sono tanti lavori. Manca il campanile, ecco. È lui uno degli indiziati per cui va un po' risistemato, anche se non è diverso in grave condizioni. Comunque stiamo andando avanti e siamo felici e noi invitiamo tutti a venire e ad essere solidali perché questo ovviamente è un patrimonio che dobbiamo tramandare e lasciare per i posteri. Monsignor Andrea Migliavacca è già venuto a Benedetto l'inizio dei lavori che sono partiti alla fine di gennaio e adesso ritornerà ovviamente per vedere questa nuova luce che emana il nostro santuario. La patrona dell'autostrada è proprio lei, Santa Maria delle Vertighe, quindi c'è una processione, il 14 sera, si arriva fino al casello dell'autostrada, viene chiuso, il vescovo benedice l'autostrada e si ritorna in qua per la messa pontificale. È un evento molto bello. Poi ci sono tanti eventi in questo mese di agosto che sono tutti eventi che servono quindi alla beneficenza, è tutto pro santuario. Quindi io invito tutti a poter partecipare a tutti gli eventi e ad aiutarci in questo lavoro impegnativo ma direi emozionante e esaltante perché poter aiutare, no aiutare, poter sistemare nel meglio questo santuario è veramente entusiasmante, è qualcosa di bello. E come vorreste che lo vivessero i fedeli non solo dalla Valdichiana, Aretina o Senese ma anche da altre zone? Certo, potrebbe essere interessante il venire qua perché il santuario, oltre alla parte spirituale che è la più importante, ha anche delle opere d'arte importanti. La pala del Margherito d'Arezzo che è stata fino adesso in esposizione al Museo di Arte Medivale d'Arezzo. È stata un'occasione anche perché è entrata in un circuito internazionale di restauratori che si sono confrontati perché altre opere del Margherito sono, se non ricordo male, al British Museum di Londra, comunque sono opere importanti. Quindi è entrato in un circuito per cui attirerà anche studiosi che vengono dall'estero. Poi ci sono gli affreschi del Porta, c'è il crocifisso di Lorenzo Monaco che è forse anche uno dei pezzi più importanti, già visitato anche da Sgarbi. Quindi ci sono delle cose belle da vedere. Qui cosa c'è? Arte, cultura e fede. E allora in virtù proprio della processione appunto di lunedì 14 agosto, ovviamente la stazione di Monte San Savino dell'autostrada del Sole sarà chiusa dalle 20 alle 24. In alternativa scrive Autostrade per l'Italia si consiglia di utilizzare l'uscita o l'entrata insomma di Arezzo. Rimaniamo al santuario di Santa Maria delle Vertighe perché abbiamo raccolto proprio questa mattina, l'occasione appunto del nostro servizio per quello che riguardava i festeggiamenti poi propedeutici al 15 di agosto, una storia davvero bella, quella di Suor Elena, prima una campionessa di karate, poi appunto una suora. Ve ne facciamo sentire un piccolo estratto e poi nelle prossime edizioni sentiremo insomma tutti i dettagli di questa bella storia. Sentiamo. Nel 93 dopo una lunga escalation nell'ambito sia nazionale che internazionale a livello europeo e mondiale, ho vinto la Coppa del Mondo. Eravamo ad Algeri e era il 7 di ottobre, per cui per me è stata una data significativa con la sua firma e gliel'ho dedicata, alla Madonna del Rosario gliel'ho dedicata e che è una preghiera che ha sempre caratterizzato sia la mia gioventù che la mia vita. Io ho sempre combattuto, lottato nell'ambito del mondo sportivo, sì per una medaglia, ma questa medaglia l'avevo sempre offerta a Maria. Ho sempre coniugato le mie esperienze di vita con le esperienze di fede. Il desiderio di vincere era tanto, però ho sempre scoperto che la Madonna è una grande tifosa. Vestendo di azzurro mi sono sempre immaginata che era vicino anche alla squadra nazionale azzurra. Quando mi dicevano in bocca al lupo, io mi sono sempre, mi arrabbiavo sempre, dicevo no in bocca al lupo, in braccio alla Madonna. E allora per i dettagli della storia appunto di Suore Elena vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto invece parliamo di questioni decisamente meno spirituali come la polemica del Partito Democratico di Arezzo sulla decisione del comune di Arezzo di concedere ad uso gratuito all'università l'immobile delle loggie del grano che precedentemente ospitava un mercato con prodotti del territorio a chilometro zero. Ormai purtroppo, scrive il PD, siamo abituati alla logica dell'estemporaneità e dell'improvvisazione ma qui ci sono grandi punti interrogativi per i quali chiederemo conto nel prossimo consiglio comunale. Purtroppo il comune di Arezzo, che osa il PD, non ha una guida politica da molto tempo. Il sindaco è sistematicamente assente e il centro-destra non è all'altezza di costruire una strategia seria per il futuro della città. Sono giorni, gli esperti l'avevano detto, in cui è tornato il gran caldo e con esso anche il pericolo degli incendi. Arriva quindi l'appello diffuso del servizio antincendi della regione toscana proprio in queste settimane appunto di caldo, di non accendere fuochi e di segnalare ogni tipo di criticità alla sala operativa permanente della regione toscana che risponde all'800 425 425. Intanto continua in modo costante il lavoro del servizio antincendi gestito dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino che copre ben 12 comuni con la possibilità di operare in tutto il territorio regionale in caso di necessità. Quattro operatori professionalmente preparati pattugliano appunto e sono pronti ad intervenire in caso di necessità. Speriamo insomma che questo non avvenga. Dal fuoco alla siccità il pericolo appunto della siccità viene sicuramente calmierato grazie all'acqua di Montedoglio che arriva in Valdichiana finanziati i primi chilometri di rete. L'acqua di Montedoglio finalmente disseta l'agricoltura della Valdichiana. Il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha infatti finanziato al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno la realizzazione del primo lotto del distretto Enriguo di Foiano della Chiana. Finalmente riprende lo sviluppo delle reti Enrigue in un'area ad alta vocazione agricola dove le imprese da anni aspettano l'acqua di Montedoglio il principale invaso dell'Italia centrale con i suoi 140 milioni di metri cubi d'acqua commenta con soddisfazione la Presidente Serena Stefani. Dunque quasi 7 milioni di euro destinati alla realizzazione del primo lotto del distretto Enriguo numero 23 al servizio delle aziende di Foiano. Sarà realizzata una piccola ma importante porzione dell'intero distretto Enriguo che se e quando sarà ultimato riuscirà a dissetare una superficie di 2.300 ettari attraverso l'installazione di oltre 40 chilometri di condotte dotate di circa 150 punti di consegna che per essere posizionati e messi in funzione richiedono un investimento complessivo di 40 milioni. Dunque un primo passo oggi per superare il paradosso del sistema Montedoglio in base a vasche di compenso piene e campi all'asciutto. Stanno proseguendo secondo il cronoprogramma i lavori al sottopasso di via Baldaccio D'Anghiari ad Arezzo per questo il comune comunica che è scattata proprio in queste ore la impossibilità di transitare lungo la pista ciclabile nel tratto compreso tra l'ingresso del sottopasso stesso e il distributore di via Alessandro Dalborro esattamente 24 ore su 24 fino alla fine di ottobre quando appunto dovrebbero essere terminati questi importanti lavori. Parliamo adesso dell'orologio di fraternita, lo sapete era in fase di restauro che tra l'altro dovrebbe terminare entro il 16 di agosto perché proprio allora inizierà il montaggio delle tribune per la giostra del Saracino in Piazza Grande ma proprio durante il restauro un'importante scoperta. Sentiamo. Documenti storici ricordavano della presenza di un colore azzurro sul quadrante che però era completamente perduto e invece ricercando attentamente con il microscopio i frammenti li abbiamo trovati, li abbiamo mappati per poter essere poi modello per la riproposizione di questo quadrante azzurro. I celli azzurri dell'orologio del palazzo di fraternita tornano alla luce ma non solo, trovati anche frammenti d'oro sotto le linee delle fasi lunari che impreziosivano il quadrante. Anch'essi originali sotto a numerosissimi strati di ridipinture questo orologio dai documenti risulta che ogni pochi decenni veniva ripittato, ridipinto, mantenuto e quindi ognuno ha messo la sua opera sopra a quello che c'era sotto quindi per fortuna sono rimasti dei frammenti d'oro che disegnavano le linee della luna e le cifre che erano diventate nere in quanto a un certo punto il fondo era bianco e ora sono tornate a essere oro su sfondo azzurro. I segreti dell'orologio del palazzo in Piazza Grande svelati durante le operazioni di restauro che termineranno entro il 20 agosto. Verrà portato a quello che era il più antico pensiero di chi lo ha realizzato che è del 1552 quindi avrà di nuovo i colori come erano stati pensati in origine. È un cosiddetto orologio astronomico oltre che segnare l'ora e battere ogni quarto d'ora ricordando anche poi che ora è quindi anche da distanza si sapeva insomma che ore fossero in quel lato momento indicava le fasi lunari la posizione del sole e la posizione del sole rispetto alla luna. L'orologio astronomico è stato costruito nel 1552 nella vela progettata da Giorgio Vasari e dipinto da Salvi Castellucci un'opera straordinaria dall'importante valenza sociale oltre che artistica. Si faceva riferimento a questo sia per le attività umane legate alla luna che all'orario. Questa era la piazza poi del mercato quindi è il posto migliore perché chiunque potesse sapere l'ora e la si sentiva anche attraverso le campane. C'è stato davvero il pienone a Castiglion Fiorentino per questa serata di anteprima del Festival Vintage che poi esiterà il 12 e 13 a Castiglion Fiorentino perché c'era Gio Bastianich. Dalle cucine del mondo ai palchi di tutta Italia Gio Bastianich del Restaurant Man con la band della terza classe protagonista Castiglion Fiorentino nella serata d'anteprima del Vintage Festival un viaggio musicale tra le inconfondibili sonorità statunitensi. Le nostre ispirazioni sono la musica un po' dei anni 50, Motown Memphis, i anni 60, Chuck Berry, Elvis Presley allora tutto, sai, tutto che ci sta dentro la storia della musica è importantissima, avere la cultura, tradizione allora è importantissimo anche il passato per rendere il presente possibile nel mondo della musica. Cantante, musicista, intrattenitore, imprenditore ed esperto di cibo e produttore di vini proprio grazie ai vini e all'amicizia con i Negrita il legame con Arezzo. Ma comunque passo spessissimo in questa zona la Toscana ha sempre fatto parte della mia storia ovviamente nel mondo di vino e cibo però particolarmente i miei amici di un gruppo molto famoso che vivono qui, che vengo a trovarli tante volte che non si nominiamo perché ho visto anche il loro tour oggi in Negrita allora sono qui abbastanza spesso a vedere gli amici, fare musica e apprezzare questo posto meraviglioso. Dal 12 agosto le strade di Castiglion Fiorentino tornano indietro nel tempo negli anni 50 e 60 trasformando il borgo nel centro più americano di tutta la vallata. Sono giorni intensi che trasformeranno la nostra città in una città piena di musica, di intrattenimento market vintage e tanto buon divertimento. Tutti pronti per tornare in Vasca riaprirà infatti i battenti a inizio settembre la piscina comunale di Foiano della Chiana con un nuovo gestore siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto commenta il sindaco Francesco Sonnati abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per calibrare la ripartenza della piscina appunto con un nuovo gestore i due soggetti che grazie ad Unati un'associazione temporanea di impresa andranno a gestire l'impianto sono la Virtus Buon Convento e l'Arezzo Nuoto entrambe società con esperienza pluriennale in ambito appunto della gestione di attività in acqua ed impianti sportivi società prosegue il sindaco che ci danno ampie garanzie di professionalità e siamo allo sport l'Arezzo Calcio Femminile accoglie nella prima squadra la calciatrice Alice Tidona attaccante protagonista della passata stagione insieme a Silvia Lonoce, Giulia Martino e Alessia Scognamiglio della vittoria appunto del campionato con la formazione primavera di mister Ilaria Leoni benvenuta dunque appunto a lei in Amaranto ed infine parliamo di ciclismo perché sono oltre 30 le squadre per un totale di circa 200 atleti già iscritte alla edizione numero 106 del Giro del Casentino in programma per domenica 20 agosto con partenza e arrivo a Corzalone nel comune di Chiusi della Verna il Casentino è la seconda corsa più antica d'Italia per quelli che una volta venivano definiti dilettanti e adesso invece sono Elite e Under 23 unica gara in categoria che vanta insieme nell'Albodoro Gino Bartali, Fausto Coppi e Gastone Nencini la partenza come dicevamo da Corzalone alle 13.30 il percorso si annuncia intubbiamente impegnativo rispetto ad altre gare una salita davvero lunga come quella della Verna il Montanino di Camaldoli poi doppia ascesa a Sarna lo strappo di stoppe d'arca dopo il passaggio dal centro di Arezzo e poi appunto ritorno al Corzalone in tutto 165 km è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e buonasera